bing, coco yo, ma questo è un parco divertimenti bellissimo, è stupendo, sì, dobbiamo chiamare subito, bingo e blui, sì, andiamo tutti, bingo, blui, eccoci, è un parco divertimenti bellissimo, blui, bingo, è un parco meraviglioso, non vedo l'ora di giocare, sì, amici, ma che bello questo parco, non vedo l'ora di salire sulle giostre, anch'io, ok, cosa aspettiamo allora amici, andiamo, wow, ma questo è un gioco meraviglioso, come funziona, non lo so, non neanche io, ma ci voglio provare, allora, dobbiamo girare questo, mi metterò dentro e poi, eccolo che parte il gioco, wow, wow, mi posso mettere io di là? Certo, poco io, vieni, oh, sono caduto, wow, wow, ma è bellissimo, oh, che divertente, lo voglio fare anch'io, anch'io, voglio sei piccolino, ma io voglio salire, mi prego, che facciamo bambini, la facciamo salire sulle giostre? Sì, ok, i bimbi hanno detto di sì, e allora, bingo, ti aiutiamo noi, sali, sali sopra di me, su, salta, dentro l'unicorno, ho paura, dai tranquilla, bingo, adesso la giostra si attiva, io sono vicino a te, mi metterò qui, pronta, uno, due, e tre, oh, guarda, bingo, è meraviglioso, grazie, grazie, non vedevo l'ora di fare questo gioco, oh, che bello questo gioco, grazie bimbi per aver detto di sì, vogliamo andare a giocare sull'elefante? Sì! Wow, ma questi giochi sono meravigliosi, io voglio provare subito a saltare su questa palla rosa e bianca, oh, 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 boing, 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 mamma mia, è morbidosa, boom, 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 ah, potete provare anche voi? Sì, voglio provare anch'io, boing, boing, oh, 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 aiuto, sto saltando al contrario, oh, 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 bravo, ping, adesso voglio salire sull'elefante, eccolo qui, elefante, è di gomma, salta, 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 elefante giocattolo, wow, che bello, brava, io invece su questo rinoceronte oh mamma mia che avventura oh no lui stai saltando troppo in altro oh che avventura facciamo un altro gioco ok qui ci sono dei pop up meravigliosi bimbi che facciamo vogliamo giocare si oh ok giochiamo allora dobbiamo wow questo pop up a forma di unicorno è meraviglioso ahi poco io scusa di nulla vediamo spingiamo ok io spingo con le mie ah parecchie poink poink pronti amici dai saltiamo poink anch'io wow abbiamo schiacciato tutto ora tocca a voi ok ora noi andremo a schiacciare questo bellissimo gufo dai poco io ce la possiamo fare è una gara vai schiaccia schiaccia che fatica ma è stato divertentissimo è vero amici andiamo a fare un altro gioco facciamo il trenino degli animali ok oh ecco il trenino si è meraviglioso hai visto pingo dobbiamo salirci si ognuno salga su un animale inizio io io voglio salire sull'elefante perché è blu come me avanti io non lo so perché lui si è presa il blu che era il mio colore bimbi dove devo sedermi io sulla tigre sulla tigre ok e bimbi e io invece e io invece dove ci sediamo noi bingo e bing bingo e gira e io panda ok ci sto si la giroffa è il mio animale preferito wow e adesso ci muoviamo ciof 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 wow il giro sul trenino degli animali è stato bellissimo bimbi e ora guardiamo questo gioco è quello più alto di tutto il parco giochi wow guardate bimbi è altissimo non si vede la fine wow dobbiamo contare quanti sono questi cubi colorati ok ok partiamo da quello più piccolo in alto pronti prontissimi il numero uno e il numero due bimbi dopo il due chi viene? tre e poi quattro e poi cinque e poi il sei e poi il sette e poi l'ultimo otto ah bravissimi wow wow bimbi è stato veramente un giorno meraviglioso sì sì la prossima volta giocheremo ancora ok adesso vi salutiamo ciao ciao goodbye bimbi 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 bimbi